Volevi vedere una bella redditata? La volevi vedere, la desideravi, anche perché è l'unico video che edita Mr. Però prima vi beccate grande intro di Level Up Level Up che dal 7 di febbraio fino al 14 alle 23.59 Avrà uno sconto del 20% Qui grazie 20% BAM! Codice Blur che prendo e lo porto di qua Codice Blur 20% Ci avete tutti i link in descrizione Allora, vi dico una cosa Vi dico un piccolo trick che in realtà non vi dovrei dire Quando voi andate su Level Up e comprate il gusto Ci sta, va bene Se comprate il gusto più lo shaker Arrivate a 50€ e poi ci avete la spedizione gratuita Visto che mi chiedete sempre quali sono i gusti più buoni In realtà noi abbiamo gusti diversi Cioè nel senso A te magari piacciono le vecchie A me i bambini Te piace il dolce? Benissimo Allora te piacerà il gusto appena uscita Level Up quello al gusto orsetto gommoso Te piace acido? Te piace acido, te girano un po' i coglioni Quindi Nuclear Edition è quello che fa per te Perfetto, preciso Menzione d'onore per questi due Che sono Burning Feeder In italiano detto Ergusto da Fenice E Shiny Dragon In italiano detto Erdragone colorato Su Tumblr ci sta sta foto Precisa che è un giveaway di Level Up Dovete semplicemente poi nella descrizione della foto Ci sta andare a seguire la pagina di Level Up Italia E seguire ovviamente anche il mio account Lasciare like alla foto E commentare taggando due vostri amici Poi vi contatta direttamente Level Up E vi manda uno shaker E un gusto che volete voi No famogliere l'urletto di Redditata Dai zì che so caliente Eeeh 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 Boom baby bye 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 Eeeh 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 Che cos'è il Portogallo col Zoom nella cerimonia inaugurale dei giochi olimpici? Aspetta Poverina la porta a bandiera non sa che cosa sta facendo Che saggia il Tokus? Metti up a vote coglione Ok Lo metto subito Sentite le sagge parole di Blur Poi nel cbd mi può fucchiare il cazzo porco di Comunque non l'ho mai detto E' doppiato E' un piscello su tiktok che c'ha la stessa mia voce che se sta a divertire a doppiare le cose Abbiamo una nuova sigla Non sarà ai livelli di quella del tg di Okane Ma spero vi piaccia comunque Oddio una nuova sigla del De Mangiatoia Si va subito a vedere Revitata Buonasera Stallone e Stallone Benvenuti in una nuova puntata di Mangiatoia Il Rap Veramente ben messa zì Veramente ben messa che scende piano piano Mi piace bravo Settimanale sulla stalla Iniziamo la puntata di oggi Segnalando la ripresa delle streame da parte della legge Queste alcune delle sue prime parole Mamma mia ragazzi che sbocco Hai tre livello 2 Dove siamo nelle streaming di Gianmarco Tocco? Vabbè Leggio Vorrei vedere cosa faresti te se avessi Alemanno e Marco Evan a carriarti i treni E dopo questa breve parentesi dedicata alla legge Passiamo ora a parlare di un evento epocale Gianmarco è infatti riuscito a battere il fazzone su 51 minigiochi A rendere l'impresa così epica sono stati numerosi pianti di viva la fazza Eh Gigi la sei portata a casa Sarei portata a casa No no è impossibile che vinco Eh gli donna dai sub Ha già vinto Ma Impossibile per me vincere Eh mo fa quello prende quello sopra ha vinto Capito? Incredibile Questo manco il ca... E so io che pianghe Che piango eh So io che piango signori Attenzione Campione del mondo fa sto game Porco Dio Ma che cazzo sto a vedere Che buffone c'è giochi tutto al giorno Sii Mamma mia fazza quanto piangi Sempre parlando di Live Giovedì Bl Ovviamente penserete che ne sia uscito del contenuto bollente Beh in realtà no Perché oltre a comportamenti ambigui e puntare il ferro in faccia a Gianmarco Le uniche parole che ha detto sono state La baldò Andiamo a fare la bla Ciao ragà Mamma mia, Gigio? Eh, 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 la baldoria va a famocchie, ciao regà! Non vorrai mica dei milioni anche per parlare? Ma come se un nudo drip guanti bianchi ti dice zio pera che fai? La donna che c'era! Sì, venga! Ciao! Dopo il post scammato di mercoledì mi ripresento, ecco a voi uomo chitarra elettrica! Sì, venga! Ok! Eh, niente, e poi ha dovuto ammettere la profila! La profila! Niente, si è dovuto firmare! Blowich viene a giocare alla... E il commento di Cassano testa grossa! Hai ragione, Lele! E il video caricato da Lele Charu! Nooo! Nooo! Dieci motivi per cui le fidanzate sono noiose di Green Wild! No! Mi sembra un po' esagerato, sinceramente! Che è Black Boomer? Cristiano Ronaldo e Rattatatata! Su! Cristiano Ronaldo e Black Boomer! Su! Cristiano Ronaldo e Baby! Su! Cristiano Ronaldo e Rocroco! Su! Rocrocco! Rocrocco! Fammelo risentire! Su! Cristiano Ronaldo e Rocrocco! Su! Su! Che è Milagoto Maggiore Resto Twitch Italia! Che è Milagoto Maggiore Resto Twitch Italia! Che è Milagoto Maggiore Resto Twitch Italia! Perché io non ho bisogno! Resterò ancora per poco Chiudi gli occhi, amore mio Innamorarsi non è un gioco Per un uomo senza un dio Ed io mi chiedo cosa è andato storto E non sapevo darmi un perché La mente è chiusa, il cuore è morto Ma io li tengo vivi per te Just tonight I will stay And we throw it all away And when the lights hit your eyes Telling me I'm right And I ain't fight Coming through And it's all because of you Just tonight Just tonight Easy Bello!